Seconda parte, devo dire che quanto si è verificato in questo provvedimento a me è molto dispiaciuto perché sostanzialmente abbiamo avuto la prova che in parte quello che dice il Presidente della Russa è fondato, cioè quello che doveva essere un provvedimento in cui in qualche modo si consentiva una tutela dei minori e l'ho detto all'inizio di questa seduta, cioè la necessità di apprestare ai minori una tutela corre il rischio di diventare un provvedimento a matrice puramente ideologica. A me questo davvero dispiace perché, lo voglio dire con molta franchezza, nei lavori di Commissione io e Forza Italia ce l'avevamo creduto. La ringrazio. Non mi pare ci siano altri interventi. Dichiaro aperta la votazione, articolo 13. Coppola. Secco. Chi non riesce a votare? Ci siamo? Sbrollini. Crippa. Qualcuno non riesce a votare? Bene. Dichiaro chiusa la votazione. 317 favorevoli, 26 contrari, la Camera approva. Sospendiamo a questo punto l'esame del provvedimento che riprenderà al termine lo svolgimento di interrogazione e risposta immediata. Sospendiamo la seduta che riprenderà alle ore 15 per lo svolgimento di interrogazione e risposta immediata. La seduta è sospesa. Grazie. 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 Grazie.